come è stato squalificato daniele dal moro al gf vip 7 il racconto è arrivato direttamente dall'interno della casa da chi ha vissuto la squalifica e non l'ha solo vista da uno schermo daniele è stato portato via dal confessionale tutto è successo in una manciata di secondi il motivo della squalifica è un reiterato comportamento del concorrente che con le ultime direttive mediaset non sono più tollerate si va via non al primo richiamo ma pare che daniele fosse già stato ripreso più volte anche i fan spesso hanno notato toni troppo alti nei litigi con oriana marzoli e non solo ma il motivo che ha portato alla sua squalifica non ha convinto proprio tutti daniele stava giocando con oriana lui stesso si è difeso sui social appena ripreso in mano lo smartphone potrebbe sorvolare sulla squalifica al gf vip 7 perché a quella si sopravvive ma non deve aver gradito molto e ha ragione sentirsi accusato di essere un violento insomma va bene il provvedimento ma va meno bene l'accusa mentre dal moro sui social si difende nella casa sono state ore di incredulità generale anche perché non è accaduto come con edoardo donna maria che è stato squalificato durante la puntata e ha avuto modo di salutare tutti daniele è andato via all'improvviso questa disparità di trattamento ha lasciato perplesso luca onestini proprio quest'ultimo ha raccontato come è uscito daniele dal gf vip e non ha nascosto di avere dubbi in realtà luca mostra spesso perplessità su come gli autori operano in puntata e non non è nuovo insomma questo genere di sfogo ma veniamo alla squalifica ecco come è successo in base al racconto di onestini riportato da bixi si è successo tutto all'improvviso ed è stato veloce io ero a letto sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi per dircelo quindi è stata una roba molto veloce più che altro non capisco alcuni subito altri in puntata perché e poi l'altra cosa oggi è stata molto pesante sta roba qui poi non è una cosa semplice è brutta per lui è brutta per tutti grazie a tutti Grazie a tutti.